Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Per tutti coloro che sono in viaggio verso Genova, ricordiamo che l'autostrada è interrotta all'altezza del capoluogo Ligure a causa del crollo del ponte Morandi sulla A10. Le deviazioni sono segnalate. Traffico invece regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI personale su strada per lavori tra la Strassigna e Firenze, in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Sulla statale 3 Vis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili, in direzione Ravenna. Chiuso lo svincolo di Canili. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!